Per i Vira Sport siamo con il capitano del Campo Rosso, oggi per voi una brutta sconfitta, soprattutto nel primo tempo, tre gol in cinque minuti, avete un po' staccato la spina e poi partita condizionata. Sì, diciamo che non eravamo neanche partiti tanto male, abbiamo fatto una mezz'ora giocata abbastanza bene, difendendoci contro una signora squadra, secondo me la più forte del campionato. Peccato quei cinque minuti che abbiamo mollato un pochettino, abbiamo preso tre gol e poi abbiamo staccato la spina, come hai detto te, e diciamo che abbiamo pensato, visto le tante assenze, visto i tanti rifidati, abbiamo pensato più che altro alla prossima partita. Ecco, oggi San Bartolomeo alla fine ha pareggiato, cosa vi manca per salvarvi? No, noi dobbiamo cercare di fare i punti senza guardare quelli dietro, penso che con un paio di punti, un 3-4 punti potremmo salvarci, ma senza fare calcoli e andare in campo alla prossima partita cercando di vincere e poi vedere cosa fanno le altre. Grazie mille. Grazie mille.